Stangata autunnale in arrivo per gli italiani che al rientro dalle vacanze saranno alle prese con una spesa di 2.924,70 euro per bollette, riscaldamento, visite mediche e prodotti scolastici. A lanciare l'allarme è l'Osservatorio Nazionale Feder Consumatori, secondo cui l'incremento per le famiglie è di quasi 253 euro in più rispetto ad autunno 2022, quando era già iniziata l'ondata di rincari. Si tratta di cifre estremamente onerose, ma il calcolo non si ferma qui. Aggiungendo le spese per due settori fondamentali, quali alimentazione e carburanti, il totale supererebbe i 5.100 euro da settembre a novembre, oltre 480 euro in più rispetto allo scorso anno. Per l'associazione molte famiglie non riusciranno a far fronte a questa stangata, che inoltre rischia di dare un duro colpo all'economia italiana abbattendosi sui consumi e sull'intero sistema produttivo. Grazie a tutti.